Movimento 5 Stelle, primo partito in Italia con il 25,6% delle preferenze, centro-sinistra vincente alla Camera ed equilibrio in certezza al Senato grazie ad un forte recupero del centro-destra. Questi i primi riscontri all'indomani della due giorni delle elezioni politiche. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Unica Channel. Il centro-sinistra riesce a far scattare il premio di maggioranza alla Camera, mentre al Senato è testa a testa contro la coalizione di centro-destra. 119 seggi a 117, tenendo presente che per completare la scacchiera mancano ancora i sei parlamentari eletti all'estero. Il partito che esce maggiormente rafforzato dalla tornata elettorale è sicuramente il Movimento 5 Stelle, che si è garantito 109 seggi alla Camera e 56 al Senato, ponendosi all'attenzione come ago della bilancia per le decisioni del prossimo governo e come primo partito in assoluto in Italia per numero di preferenze, superando anche il favorito PD, che invece ha perso un notevole numero di voti a fronte anche di un netto recupero della coalizione di centro-destra. La lista con Monti per l'Italia si attesta come quarta forza in Parlamento, ma Fini rimane a secco di seggi. Pesante tonfo poi per rivoluzione civile, che non ha ottenuto alcun seggio. Dai risultati emerge un grande equilibrio tra gli schieramenti di centro-destra e centro-sinistra, tale da porre in forte risalto il rischio di ingovernabilità, come ha dichiarato anche il Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. E stamattina lo spread è risalito a 340 punti. All'interno del PD non sono in pochi ad invitare Bersani alle dimissioni, dopo aver dilapidato il vantaggio iniziale in sede di campagna elettorale, auspicando poi una riforma elettorale ed il ritorno in tempi brevi alle urne. Ma con la crescita esponenziale del partito di Grillo, PD e PDL potrebbero incorrere e inserire i rischi in una nuova tornata elettorale. E intanto proprio Grillo lancia una nuova promessa. L'onestà adesso andrà di moda. E con questo si chiude questa edizione del TG di Unica Channel. A tutti voi, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.